Dopo più di un anno e mezzo si è conclusa l'imponente operazione della polizia postale contro la pedopornografia online. Le indagini coordinate dalla procura di Palermo hanno portato a 21 denunce a piedi libero e 13 arresti in tutta Italia, 2 in Sardegna. Si tratta di un 29enne cagliaritano residente a Ossi, fermato dalla postale di Sassari lo scorso 9 settembre in flagranza di reato, ora in carcere a Bancali. E' stato trovato nella sua abitazione intento a scaricare materiale pedopornografico da aggiungere a un archivio di migliaia di video. L'altro arresto risale a gennaio, a finire in manette un tenente colonnello della Guardia di Finanza in servizio alla stazione navale di Cagliari. L'uomo in 46enne di Brindisi, immediatamente sospeso dalle fiamme gialle, è già stato condannato in primo grado dal tribunale del capoluogo Sardo, condanna che sta scontando in detenzione domiciliare. E' stato incastrato dal materiale rinvenuto durante le perquisizioni dagli agenti della postale cagliaritana sui numerosi dispositivi presenti nel suo appartamento. Divulgazione, cessione, detenzione di materiale pedopornografico, li accusi a suo carico e a carico di soggetti individuati come appartenenti alla fita rette di scambio sui canali di condivisione, chat e nel cosiddetto dark web. Oltre 250.000 i file sequestrati al loro interno, video e foto che coinvolgono bambini e persino neonati. L'identificazione dei responsabili è stata possibile anche grazie al lavoro sotto copertura della Polizia di Stato, un lavoro che non si è ancora concluso, sono in corso certamente in ambito internazionale.